Per capire una minaccia bisogna conoscerla. Quest'anno tutti si sono resi conto delle minacce delle armi nucleari, purtroppo per la situazione in Ucraina, ma è importante conoscere la dimensione degli arsenali nucleari in giro per il mondo. E quindi una mostra come quella che abbiamo oggi a Modena e che cercheremo di far girare serve a rendere consapevoli le persone della minaccia delle armi nucleari, ma non solo, anche delle strade che sono state già impostate per toglierle dalla storia. Il Trattato di Previsione delle Armi Nucleari, la Campagna Internazionale contro le Armi Nucleari e in Italia, Italia Ripensaci, lanciata da Senza Atomica e Retta Pace Disarmo. Più persone conosceranno questa situazione, più persone potremo avere dalla nostra parte per aiutarci a liberare il mondo e l'umanità dalle armi nucleari.